Io temo che semplicemente o alcune volte i partiti ritengano che i loro schemi, le loro... Qualcosa particolare non c'è, che in questa situazione ha perso il PD. Questo non c'è dubbio, ma appunto alcuni schematismi tipici dei partiti sono ormai superati e chi ha invece il contatto con la realtà, con la gente, con ciò di cui c'è veramente bisogno in città, non fa molta fatica, se parte va avanti lo stesso. Quindi questa è la, credo la lezione, ma non bellunese, è una lezione in generale, credo, per la politica italiana. La curiosità. Quando lei ha vinto, ovviamente ha battuto la collega del PD, definiamola così, cosa le ha detto il PD di Belluno? O il partito, mi racconti così cosa le ha detto, è una curiosità... Diciamo che l'unica cosa che ho ricevuto è stata una lettera in cui mi è stato scritto che io per tre anni non avrei potuto iscrivermi al Partito Democratico, peraltro non era in cima alle mie priorità, ovviamente, dopo il trattamento ricevuto. Altro non ho, più o meno non ho avuto, ho avuto il PD, un consiglio comunale che ha fatto opposizione contro la mia amministrazione, la quale peraltro aveva un programma e ha tuttora un programma che è estremamente simile a quello del PD, d'altronde essendo stato io per cinque anni il capogruppo del PD, non è che sono impazzito e ho cambiato idea sulle cose, ho portato avanti quello che come Partito Democratico per tanti anni, tempi addietro, abbiamo portato avanti. Con la differenza che allora eravamo all'opposizione, dopo i fatti del 2012, adesso li ho realizzati con una maggioranza di veri. L'hanno iscritto poi al partito? No, io non ho più chiesto la testa. Ha detto un po' di orgoglio, insomma anche se l'orgoglio non paga mai, però un po' di orgoglio mi sembra il minimo, in questa fase qua sinceramente troverei molto difficile iscrivermi al partito che mi ha di fatto costretto a lasciare il partito per poter portare avanti le stesse idee nelle quali credevo e per le quali avevo fondato il PD. Pensava di vincere ugualmente anche senza il partito alle spalle? Ma io sono sempre stato molto convinto del fatto che avrei avuto sicuramente chance di vincere, ma non per presunzione, ma perché con un lavoro costante fatto in Consiglio Comunale in quegli anni avevo capito quali erano le vere necessità della città e avevo anche capito una cosa di cui sono tuttora fortemente convinto, cioè il fatto che la gente è stufa di sentire come possiamo dire, di sentire che il partito viene sempre prima della gente ed è stufa di sentire, diciamo, di vedere i bizantinismi dei partiti e ritiene invece che sia importante dopo confrontarsi invece sulle cose da fare e farle e questo è ciò di cui mi sono occupato.